Radegan sarà giurato speciale nella puntata che andrà in onda sabato 22 aprile 2017, lo vedremo da Maria De Filippi a dare giudizi sulle performance degli allievi. Seduto sulla poltrona rossa dirà la sua, piccola anticipazione il suo allievo preferito è Andreas, Müller, stando a quanto già trapelato il modello israeliano ha riempito di lodi il concorrente, ha anche sostenuto che il giovane non ha bisogno di altre lezioni tanto la sua tecnica è perfetta. Grazie per la visione!